Musica Cultura, le biblioteche e i libri recuperano centralità. Nel mese di agosto tre nuovi luoghi culturali al servizio delle comunità. Capaccio Pestum, continuano i furti e danni di abitazioni e negozi della zona. Sala Consilina replica Lombardi al gruppo Salesi, c'è chi, l'impegno politico lo vede come conquista del potere, per me è essere al servizio di tutti i cittadini. San Rufo, il comune ospita studenti dell'Istituto Sacco per alternanza scuola-lavoro. Ispani Jets e il cammino delle muse continua con successo. Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con le tematiche legate alla cultura. Dal 31 luglio scorso ad oggi sono tre i luoghi culturali che hanno preso vita e sono attivi e al servizio delle comunità. Tre biblioteche a Padula, a Piaggine e a San Rufo, riattivate grazie all'impegno dei cittadini. Vediamo. Le biblioteche riacquistano centralità nei piccoli comuni grazie a giovani e cittadini. Nelle ultime settimane si è spesso parlato del recupero di biblioteche grazie all'impegno di giovani e cittadini che hanno deciso di dedicare il loro tempo e la loro attività per il recupero di volumi storici e per realizzare un luogo culturale consentendo la riattivazione del servizio bibliotecario. Tre biblioteche aperte in questo mese di agosto. La prima a Padula, dove la biblioteca romano è stata restituita a nuova vita grazie ai giovani del forum locale. A Piaggine, dove il 10 agosto è stata inaugurata una biblioteca all'interno del rifugio Cervati. E infine il 19 agosto gli ospiti del centro di accoglienza Casa dei Popoli di San Rufo hanno riaperto la locale biblioteca comunale. Un mese di agosto di cultura quindi per le aree interne. I primi a dare il via a questo impegno a favore dei libri i ragazzi del forum dei giovani di Padula guidati da Annalisa Lagalla che attraverso il progetto Casa della Cultura hanno restituito alla fruibilità della comunità la storica biblioteca comunale Raffaele Romano. Grazie al supporto dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la sede della Certosa di San Lorenzo i giovani del forum lavorando all'acremente sono riusciti a recuperare e catalogare numerosi volumi già a parte della storica biblioteca aggiungendone altri e puntando con progetti correlati ad ampliare ulteriormente la dotazione libraia. I ragazzi con le loro sole forze si sono inoltre occupati di creare un luogo tranquillo e adatto allo studio e per saziare la propria fame di cultura. Un esempio di come i giovani hanno bisogno soprattutto di chi crede in loro e nella loro voglia di mettersi al servizio del territorio. Altra iniziativa si è sviluppata sulla cima del Monte Cervati dove lo scorso 10 agosto all'interno del Rifugio Cervati è stata inaugurata la biblioteca Sabatino Landi nell'ambito dell'evento Eleviamo la Cultura creando uno spazio dove poter leggere anche sulla vetta più alta della campagna. L'ultima biblioteca riaperta alla fruibilità delle comunità locali è venuta a San Rufo dove alcuni giovani richiedenti asilo e ospiti del centro d'accoglienza a Casa dei Popoli prima hanno fatto richiesta di poter usufruire della biblioteca comunale chiusa da circa un anno e successivamente hanno manifestato la volontà di poterla gestire prendendosi cura del luogo e manifestando la disponibilità a tenerla aperta. Così dallo scorso 19 agosto gli ospiti della Casa dei Popoli hanno restituito il luogo culturale ai cittadini sanrufesi. Voltiamo pagina, c'è la cronaca, continuano i furti nella zona di Capaccio Pestum l'ultimo bersaglio, l'abitazione di una nota famiglia locale. I dettagli. L'adria acrobati in azione in via Rettifilo Filette a Capaccio Pestum ripulita un'abitazione e il negozio sottostante. Il furto è avvenuto la scorsa sera intorno alle ore 20 approfittando dell'assenza dei proprietari una nota famiglia della zona i malviventi si sono arrampicati al piano manzardato dell'edificio e dopo aver forzato una finestra hanno messo a soccuardo l'appartamento rovistando dappertutto in cassette ed armadi delle camere da letto. Dallo studio sito in un'altra stanza sradicata e asportata dal muro la cassaforte contenente denaro con tante gioielli molti dei quali ricordi di famiglia per un valore di poco superiore ai 5.000 euro. Ridiscesi dal piano superiore i malfattori hanno visitato anche la rivendita di trattori e automezzi posto fronte e strada e di proprietà del suocero del proprietario dell'abitazione portando via attrezzature per il giardinaggio e un'autovettura Nissan. La mara scoperta ha rientro in casa. Immediata la denuncia ai carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo Giuseppe D'Agostino che ora indagano sul doppio colpo con il coordinamento della compagnia di Agropoli comandata dal capitano Francesco Manna. Dall'ANAS arriva il bilancio del fine settimana da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale di competenza. Un fine settimana che come previsto ha fatto registrare un notevole flusso di traffico su tutta la rete di competenza anche in direzione delle località turistiche. L'ANAS ha tracciato un bilancio del weekend da bollino nero per il traffico che ha interessato le autostrade e le strade di competenza dell'ente nel passato fine settimana di controesodo. Le criticità erano attese ma appare senza far registrare forti disagi. Gli inevitabili rallentamenti e le lunghe code in un fine settimana in cui era previsto il maggior numero di rientri dalle vacanze verso le città ma secondo l'ANAS il traffico è stato scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. I volumi di traffico, spiegano, sono stati sostenuti già a partire da venerdì pomeriggio con flussi consistenti anche in direzione delle località turistiche. La giornata più calda però pare sia stata quella di sabato con il controesodo. Traffico, che riferiscono, si è registrato prevalentemente lungo le dorsali adreatiche, ioniche e tirreniche. Domenica ancora di traffico intenso ma anche in questo caso scorrevole e quindi con pochi disagi. Le criticità con intensità di traffico si sono registrate anche nei giorni successivi come ieri con qualche problema provocato da incidenti e da eventi non prevedibili. Come il caso del tamponamento a catena verificatosi ieri sull'A2 del Mediterraneo all'interno della Galleria Castelluccio a Petina dove per alcune ore il traffico è stato bloccato e su cui sono dovuti intervenire gli operatori dell'ANAS e gli agenti della pulizia stradale per cercare di ripristinare il regolare traffico autostradale. Un grande lavoro con l'ANAS che per far fronte all'emergenza preventivata ha predisposto un piano di gestione dell'esodo estivo sulla propria rete di competenza con circa 1.100 automezzi, 5.236 telecamere fisse, 1.400 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio H24 della rete e l'assistenza per il pronto intervento è stato gestito con 200 operatori impegnati tra la sala situazioni nazionali e le 21 sale operative e territoriali tra cui anche quella dell'A2 del Mediterraneo che opera in affiancamento con la polizia stradale. Torniamo alla cronaca. Finto Poliziotto trascorre una settimana di vacanza con la famiglia a Pestum, poi fugge senza pagare. Vediamo il servizio. In vacanza per una settimana con tutta la famiglia Pestum si spaccia per un poliziotto e fugge senza saldare il conto. La titolare, incredula quanto indispettita, posta i loro nomi sui social denunciando pubblicamente l'episodio. Ieri sera dal mio villaggio situato in via Sterpinia un'intera famiglia con tre figli è scappata via senza saldare il conto di 560 euro scrive la donna truffata su Facebook. Così adesso alleggo la foto di questa gentaglia che insegna ai figli che bisogna andare in ferie senza pagare alla faccia delle strutture che li ospitano. Al durissimo sfogo social della titolare si aggiunge quello del marito a stile tv. Si tratta di un agente lo ha ribadito anche al telefono e sul suo profilo social c'era una foto di auto della polizia ma poi lo ha cancellato. Aveva inviato anche un bonifico di acconto per la prenotazione ma si è dileguato con la famiglia sabato sera approfittando di un momento di distrazione. Abbiamo provato a contattarli telefonicamente conclude ma ci hanno bloccati così abbiamo incaricato un avvocato per recuperare i soldi. Sull'identità dell'uomo però è decisamente presumibile che per perpetrare la truffa si sia avvalso di un'identità fasulla spacciandosi per un agente di polizia. Il conto non pagato invece resta una spiacevole verità per il villaggio turistico Pestano. Si è spento oggi nel primo pomeriggio all'ospedale di Potenza dove era ricoverato per un male l'ex commissario del consorzio di bonifica di Pestum Biagio Franza 68 anni è stato dirigente del servizio presso il settore ecologia Napoli e dirigente di servizio presso il settore provinciale Genio Civile di Salerno. I funerali si terranno domani alle 16 presso la chiesa della Santissima Annunziata in piazza Umberto I a Sala Consilina la redazione di Uno TV esprime il proprio cordoglio e si stringe intorno a familiari e parenti. Il vice sindaco di Sala Consilina a conclusione della due giorni di evento che è stato oggetto di polemiche dal gruppo Salesi replica agli attacchi e sottolinea come la polemica è stata utile per capire che per qualcuno l'impegno politico viene ancora inteso come presa di potere. Vediamo. Il vice sindaco di Sala Consilina Gelsomina Lombardi replica la nota stampa del gruppo Salesi che nella polemica innescata a seguito dell'autorizzazione concessa per la realizzazione dell'evento promosso in località Costantinopoli nel fine settimana del 24 e 25 agosto aveva prevalentemente puntato il dito proprio verso il neo vice sindaco. La replica arriva attraverso una nota in cui ricorda come in questi anni di impegno politico ha sempre applaudito e sostenuto iniziative capaci di potenziare e diversificare l'offerta nell'ambito del settore ricreativo ancor più se tali iniziative partivano da cittadini o commercianti e potevano essere utili per recuperare luoghi altrimenti dimenticati e abbandonati come il caso dell'ex cava di Costantinopoli che seppur ricca di fascino e vicina alla storica chiesetta della Madonna di Costantinopoli riceveva una lieve visibilità solo in occasione dei festeggiamenti in onore di santo patrono San Michele. Avviare o diversificare l'attività privata da parte di qualsiasi cittadino dichiara Gelsomina Lombardi anche di chi ha un familiare impegnato politicamente credo sia ancora consentito in uno stato di diritto soprattutto se tale attività è avviata con fondi propri. Dopo tale premessa il vice sindaco commenta la nota del gruppo Salesi sottolineando come non comprendendo il clamore ne riconosce comunque l'utilità. È stato utile dichiara Lombardi comprendere che l'impegno politico viene ancora inteso come una conquista del potere e mezzo esclusivo per raggiungere fini personali e lucrativi così da ben distinguere chi intende la politica non come un gioco di forza o di potere ma un impegno verso l'alto senso del dovere visto che la cultura politica diffusa affonda le sue radici in quella prima repubblica dove si aprivano porte si favorivano famiglie e amici ma in quegli anni io ero ancora impegnata ad ascoltare racconti delle favole. È stato altresì utile apprendere e spiega quanto sia importante rispettare ed incentivare le feste religiose e così per evidenziare meglio quanto sta attuando l'amministrazione comunale con l'ottenimento del finanziamento POC per la valorizzazione del culto micaelico e con l'insedimento delle feste religiose nella redazione del calendario di eventi estivi fatto che aveva destato sdegno e che aveva lasciato sostenere che fosse una maschera per celare mancanze o scarsa inventiva. Essere parte di un'istituzione conclude significa essere al servizio di tutti i cittadini che con coraggio avviano nuove attività e aspettano ogni evento come momento per attrarre nuovi utenti di quelli che vogliono che Sala cresca culturalmente e politicamente non imitando l'imbarbadimento romano ma guardando a quei valori che concorrono ad elevare l'azione politica alla quale e solo a quella può essere mossa l'opposizione. Cambiamo argomento nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro al comune di San Rufo saranno ospitati studenti dell'istituto Sacco di Sant'Arsenio per l'anno scolastico 2019-2020. L'alternanza scuola-lavoro si può fare anche in comune a San Rufo saranno ospitati studenti dell'istituto Sacco di Sant'Arsenio per l'anno scolastico 2019-2020. È stata sottoscritta una convenzione tra l'ente e la scuola per tirocini formativi e di orientamento al lavoro. 12 ragazzi dell'istituto tecnico-amministrativo finanze e marketing in erizzo sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing saranno inseriti presso l'area finanze dell'ente in attività finalizzate sia all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro che alla conoscenza pratica del funzionamento delle istituzioni locali. I ragazzi coinvolti sono divisi in gruppi di 4 persone per ciascun anno scolastico dell'ultimo triennio. Tali percorsi sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata formativi programmi e calendari saranno definiti insieme dall'ente e dalla scuola tenendo conto sia delle esigenze della struttura amministrativa che delle inclinazioni personali dei giovani. L'attività di formazione e di orientamento infatti sarà seguita e verificata da un docente tutor interno designato dall'istituto scolastico e da un tutor formativo esterno indicato dal comune e quanto prevede l'intesa siglata. Da una parte c'è l'istituto Sacco che cerca con le tante iniziative messe in campo a vantaggio dei suoi studenti di rafforzare nel Vallodigliano la collaborazione tra la scuola e soggetti pubblici e privati locali per facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro oltre che favorire una maggiore diffusione della cultura. Dall'altra c'è l'entere da Michele Marmo che si è mostrato disponibile ad accogliere studenti per un periodo di apprendimento quindi per una esperienza formativa stimolante se vissuta con lo spirito giusto. Ora ci fermiamo per un po' di consigli poi ci ritroviamo tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg appuntamento giovedì 29 agosto presso il Parco archeologico di Pestum con il progetto Sportello Amico Trapianti promosso dall'Asla Salerno vediamo Diffondere la cultura della solidarietà e della donazione degli organi è questo il compito che si prefigge il progetto Sportello Amico Trapianti promosso dall'Asla Salerno per giovedì 29 agosto presso il Parco archeologico di Pestum Amico Trapianti è dunque l'importante iniziativa che vedrà appunto l'attivazione di sportelli tra i templi per sollecitare turisti e residenti postazioni dedicate per sensibilizzare diffondere la cultura della solidarietà e della donazione d'organo informare la cittadinanza sulle attività dello Sportello Amico Trapianti dell'Asla Salerno il tutto con l'accompagnamento musicale del gruppo Quasi Manoush l'iniziativa infatti non è soltanto informativa ma si tratta di un vero e proprio evento che prenderà il B alle 18 con la musica della band composta da Giosuè Masciari Galtiero Lamagna e Fernando Chiumento i cittadini maggiorenni potranno lasciare i propri dati nel sit Sistema Informativo Trapianti per essere poi eventualmente interpellati in caso di necessità il progetto Sportello Amico Trapianti rientra in un più ampio programma operativo regionale finalizzato a promuovere sul territorio di competenza la cultura della solidarietà e della donazione d'organo creando una rete tra il mondo della scuola le istituzioni e le organizzazioni di volontariato proponendosi come strumento di orientamento accompagnamento e informazione per donatori potenziali donatori e pazienti in attesa di trapianto tutte le informazioni si possono ricevere anche presso le postazioni presenti nei distretti dell'Asl Salerno dopo l'appuntamento del 29 agosto un altro evento di sensibilizzazione è già previsto per il mese di settembre il 19 con lo spettacolo musicale dei racconti Swing sulla riva del fiume ora gli spettacoli continua con successo la manifestazione Ispani Jets e il cammino delle mose a Capitello di Ispani la nuova compagnia di canto popolare domenica scorsa ha dato vita ad uno spettacolo coinvolgente dopo il primo appuntamento dello scorso 17 agosto a Rocca Gloriosa con lo spettacolo teatrale Labbraccio un grande successo domenica scorsa per il secondo momento della manifestazione Ispani Jets e il cammino delle mose a Capitello di Ispani la nuova compagnia di canto popolare lo storico gruppo che nasce nel 1970 con il preciso intendo di diffondere gli autentici valori della tradizione del popolo campano ha garantito uno spettacolo unico e coinvolgente che ha ripercorso le tappe della carriera del gruppo di artisti napoletani con le canzoni che hanno segnato la loro storia attraverso studi filologici e ricerche etnomusicologiche la nuova compagnia di canto popolare ripropone la musica popolare nel suo stile originale e gli spettatori hanno partecipato cantando al ritmo delle melodie che il gruppo ha proposto nel corso della serata scopo del gruppo è quello di salvaguardare il patrimonio colte popolare di Napoli e della campagna di ricerca sviluppo e diffusione della musica tradizionale e di quella composta autonomamente sui modelli popolari da 50 anni la nuova compagnia di canto popolare continua a portare la sua musica in giro per il mondo e nelle piazze italiane prossimi appuntamenti della manifestazione Spani Jazz e il cammino delle muse stasera 27 agosto a Ispani presso Villa Olga con Rosanna Casale a partire dalle ore 22 e poi domani sera 28 agosto invece a Rocca Gloriosa l'appuntamento è alle ore 21 e 30 in piazza Europa con Carla Maria Todini live show ed Enzo Fischetti da Made in Sud Il comune di Padula mette a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno un ciclo di cure termali con trasporto gratuito le domande vanno presentate entro il prossimo 6 settembre L'assessorato alle politiche sociali del comune di Padula guidato dal sindaco Palo Imparato anche quest'anno mette a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno un ciclo di cure termali con trasporto gratuito da attuarsi nel prossimo mese di settembre le attività si svolgeranno presso lo stabilimento Terme e Vulpacchio di Contursi nel periodo compreso tra il 16 e il 28 settembre è previsto un ciclo curativo di 12 giorni con assistenza medica il comune fa sapere che l'accesso alle cure termali è garantito a tutti senza limiti di età che le prestazioni convenzionate si effettueranno previa prescrizione del medico curante e pagamento del ticket se dovuto chi ha già soffruito nell'anno di prestazioni convenzionate pagherà la tariffa prevista per ogni seduta di cura con sconto della 50% è prevista una visita medica obbligatoria nelle terme prima di ogni cura e infine verrà garantito il trasporto gratuito per tutti si potranno effettuare fanghi e bagni terapeutici cure inalatorie idropiniche ginecologiche e massoterapia le domande di partecipazione dovranno essere presentate su modello da compilare e ritirare presso il servizio attività sociali del comune da lasciare al protocollo dell'ente con la documentazione medica richiesta e con la fotocopia di un documento di riconoscimento entro il 6 settembre prossimo ulteriori informazioni sono reperibili al servizio comunale e attività sociali una occasione importante dunque per i cittadini di Padula che necessitano di cure termali per prendersi cura di sé messa a disposizione dall'amministrazione comunale e dall'assessorato alle politiche sociali ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito continuate a restare con noi vi auguro buon proseguimento di serata grazie a tutti